Musica Volevo sapere come è andato questo esame, ti vedo quel dizionario. Che traccia hai fatto? Quello, oddio, era un seggio breve sulla ricerca sui cervelli, ma mi ricordo l'ambito. Ti è sembrato semplice? Il più semplice, se no non lo sceglievo, però insomma, erano sempre comunque i soliti argomenti e attualità. La prima traccia a Madrid? L'analisi del testo. Quest'autore è un pochino meno... No, invece secondo me non era tanto difficile, però ho preferito andare sul sicuro. Com'è andata? Ah, ma non lo so. Che traccia hai fatto più o meno? La prima. Quella con Magris? Sì. E come ti è sembrata? È un po' difficile fare un po' il riassunto, quelle cose lì, però dopo il riassunto... L'ho fatto l'ambito letterario-artistico. E che... E la società di massa. Ok, come ti è sembrato? Ma... Boh... Non lo so, comunque c'è, l'ho fatto alla fine. Era un tema che si è fatto anche in questi anni, perché noi il nostro indirizzo comunque si fanno queste cose, quindi... Mi si sono trovata abbastanza bene. Era il più approcciabile? Sì, per me sì. Anche perché il primo era Magris e non si era nemmeno fatto, quindi ho fatto questo. Blackout totale sulla prima traccia. Domani è la seconda prova? Sì. Pronte? Sì, dai. Che cos'è per te? Di pedagogia. Insomma. Che traccia hai fatto? La tipologia D, quello di ordine generale. E di che cosa trattava l'argomento? Era praticamente il fatto dell'uomo e l'aggressività dell'uomo che porta alla sua propria distruzione, mentre quando invece c'è una collaborazione tra gli uomini si finisce sempre con il finale opposto, praticamente. Ti è sembrato semplice? No. Assolutamente. Le altre? Le altre no, se no le facevo. Era l'esame? No, è difficilissimo, dai. Che traccia hai fatto tu? Quella, l'ambito tecnico-scientifico, la tipologia B, il saggio breve. E esattamente di che cosa trattavo? Dovevi parlare... Un attimo, un vuoto. Sono confusa veramente. No, dovevi parlare praticamente della... Oddio, aiutami te. Dei progressi che ha fatto la scienza. Dei progressi che ha fatto la scienza, sì. Praticamente la tecnologia sta cercando di clonare il nostro cervello per aiutare anche la medicina. E ti ha sembrato semplice? Alla fine c'erano... Sì, dai, abbastanza... Cioè, l'ho fatto, quindi... Fattibile, infattibile? No, vabbè, fattibile. Fattibile era fattibile. Magari mi aspettavo, anche per esempio, nella tipologia, magari dei autori che avevamo fatto. Invece c'era uno scrittore che io non avevo mai sentito dire. Tipo Magris? Sì. Sconosciuto a tanti. Il test era molto bello, però. Ero indecisa fra quello e l'ambito scientifico, tecnico-scientifico, che poi è quello che ho fatto. Avrei voluto fare anche il primo, però, perché... solo che non me la sentivo, perché avevo vole di rischiare, insomma, non conoscendolo. Però era molto bello il testo. E comunque l'ho fatto, anche io, quindi fattibile. Incrociamo le dita, allora. Incrociamo le dita, sì.